Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Ragazzi, uno squad builder davvero devastante per dirla proprio così. È una squadra che come leggerete dal titolo o dalla miniatura è formata da il Silver Azar e il Silver Aguero. Due giocatori che li rispecchiano veramente tantissimo, che andremo presto a vedere. La squadra è un argento con due giocatori oro che mi servivano per intesa. Comunque sono due grandi giocatori. Quindi partiamo subito, il prezzo non è molto alto, adesso non ricordo bene, però comunque sia ve la cavate con poco. Andiamo subito con il portiere, cioè Sirigu, gran portiere, forse uno dei migliori del gioco, se non il migliore del gioco. No, forse il migliore del gioco è troppo, però uno dei portieri più forti del gioco, senza ombra di dubbio. Delle statistiche veramente impressionanti e ovviamente non c'è niente da dire perché questo è un gran portiere. Il prezzo ovviamente è un po' alto, ma risale a un bel po' di mesi fa, quindi adesso non so quanto è. Terzino destro, allora, è argento. Anzi, andiamo subito a vedere gli oro, così almeno ce li rileviamo. E questo è della Ligan, eccola qui. Il difensore è Sané del Bordeaux, gran giocatore, davvero mi è piaciuto molto. Come giocatore molto alto, discreta velocità, discreto valore di difesa, buon worklet, ottimo fisico. Davvero mi ha fatto anche dei salvataggi veramente paurosi in alcuni casi. Quindi ve lo consiglio. Andiamo a vedere i giocatori argento, invece. I giocatori oro erano solo questi due. Allora, mi serve il terzino destro della... Adesso ci metteremo un po' perché devo trovare qui dove cavolo è. Primera Liga. Primera Liga. No, non è Primera Liga. Ah, già, è Liga BBVA, che rincoglionito. Il Valencia è nella BBVA, quindi fino a prova contraria. Joao Cancelo, portoghese, terzino destro, ottimo giocatore, che comunque ha anche buoni valori di fisico, discreto di fisico. Buono valore di difesa, ottima velocità, buon passaggio, buon dribbling, quindi buon giocatore. Difensore centrale, invece, è... Andiamo, anzi, a vedere il centrocampista centrale, che è della BBVA. Sempre Zuculini, che è uno dei miei giocatori preferiti, uno dei miei centrocampisti preferiti, perché è molto completo come giocatore. Mi ha fatto, forse, un gol e un assist, non mi ricordo. Comunque, molto buono. Difensore centrale della Ligan è Ilori, portoghese del Bordeaux. Davvero un buon giocatore, con ottimi valori di fisico e difesa. Forse fisico non tantissimo, però è comunque molto alto, 1,90, quindi di testa le prende tutte. Anche buona velocità e costa poco. Poi, un altro della Ligan è IlCC, che è Gillet. Ragazzi, ottimo giocatore, davvero, completissimo anche lui. La cosa che mi è piaciuta di più, forse, di questo giocatore è il suo tiro. Ha un long shot, veramente, un tiro dalla distanza portentoso. Mi ha preso, tipo, un incrocio dei pali. Purtroppo non ha segnato da 40 metri, qualcosa di allucinante. E per il prezzo che costa, ve lo consiglio veramente molto. Poi, ecco, l'unica cosa negativa, forse, è il suo work rate alto d'attacco, per essere un CC che gioca in un centrocampo A2, però, vabbè. Ultimo giocatore della Ligan è Oscar Trejo. Ragazzi, io lo reputo uno dei migliori argento del gioco, perché lo potete usare da CC in un centrocampo A3, da COC in qualsiasi punto del campo voi vogliate, da AT, secondo me anche da attaccante rende molto, quattro partite, un gol e quattro assist, davvero, un giocatore divino, spettacolare, che praticamente è un poeta del calcio, davvero pauroso, dribbling allucinante, ottima velocità, tiro portentoso, grandissimo passaggio, da qui ne derivano i quattro assist. Provate questo giocatore, perché davvero non ve ne pentirete, diventerà uno dei vostri argento preferiti, ve lo garantisco. Poi, andiamo con il terzino sinistro, che è della Pro League, quindi ci metteremo un'ora e mezza a trovare la Pro League, no, eccola qui, potete usare o Van Damme o Shimanga, io uso Shimanga perché mi trovo molto meglio, visto che è molto più veloce e riesce a contrastare i giocatori più veloci del gioco, che stanno sulle fasce, quindi ve lo consiglio, ha Warcraft normale normale, che secondo me è ottimo, costa abbastanza, però comunque ci sta, buon fisico, buon valore di difesa. Poi andiamo con il Silver Hazard, ragazzi, un giocatore clamoroso, stiamo parlando di Mujan Jibia, davvero un'ala sinistra, coi controcazzi, che non costa praticamente nulla, ricorda moltissimo Hazard, forse è un po' meno di velocità, però 75 di tiro per un Argento è letale, davvero un gran tiro, sia dalla distanza soprattutto anche in area, con un'ottima finalizzazione, un buon passaggio, due gole, due assist in quattro partite per un'ala, direi che è molto molto buono, buon dribbling con 4 stelle piede debole, 4 stelle abilità, poi vabbè fisico e difesa, chi se ne frega, alto 1,80, quindi ci sta, peccato che a work rate normale di attacco, se avesse alto sarebbe il top del top, ragazzi, garantito, comunque provatelo perché è mostruoso. Poi andiamo con l'ala destra che gioca in, adesso voglio vedere se riesco a trovarla, in primera divisione, che culo l'ho trovata, Centurion, buon giocatore, molto rapido, molto veloce, tiro discreto, buon passaggio, mi ha fatto comunque un paio di gole, un assist, quindi ci sta, buon giocatore, senza ombra di dubbio, e andiamo con uno dei due giocatori che stavamo più aspettando, cioè il Silver Aguero, e stiamo parlando di Auce, ragazzi, questo giocatore è divino, è incredibile, ha una velocità pazzesca, una buona agilità, se non erro, un ottimo dribbling, peccato che non ha le 4 stelle abilità come Aguero, un tiro che sembra 80, perché davvero ogni tiro e gola ha una finalizzazione mostruosa, una precisione clamorosa, e poi ha work rate alto-basso, se non sbaglio, proprio come Aguero, ragazzi, provate questo giocatore, non costa nulla, ha anche una sua versione transfer, che gioca in Messico, provatelo, ragazzi, non ve ne pentirete mai, ve lo garantisco, credete a me, 6 gol e 2 assist in 4 partite, per una prima, appunto, direi che è decisamente un'ottimissima media, ragazzi, questa squadra non costa praticamente nulla, ed è una delle migliori silver che abbia mai fatto, e che abbia mai provato, davvero, vincete con grandissima facilità contro ogni avversario, quindi, come sempre, raga, io vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscire a un nuovo video, fatemi sapere nei commenti, intanto, se vi piace questa squadra, se la proverete, o se l'avete provata, cosa ne pensate, e, soprattutto, nei prossimi squadbuilder, quali giocatori vorreste, tipo Silver, Hazard, appunto, se volete, che ne so, Silver, Robin, Silver, Ribery, Bronze, Vampire, sì, che cavolo ne so, faccio per dire, fatemi sapere quello che desiderate, io ve lo porterò, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione, io adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi! iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale,